Luciano Zauri, il ritorno all'Atalanta, il ritorno al centro Bortolotti di Zingonia in altre vesti da allievo allenatore. Che impressione ti ha fatto ritornare qua a Zingonia? Un po' di batticuore, qui sono cresciuto grazie all'Atalanta che sono diventato prima uomo e poi calciatore come si diceva una volta. E' una grandissima emozione rivedere questo centro modificato quasi completamente, però il campetto dove correvo, dove davo i primi calci non si dimentica mai. E' sempre un piacere, è stata veramente una cosa importante. Ritornare su quel campetto, che cosa hai pensato? Il primo pensiero? Ma non due giorni, le ho rivessute un po' tutte, veramente i primi periodi un po' strani, ero veramente un bambino di 12 anni che è lontano dalla famiglia, quindi tanti ricordi, magari anche una lacrimuccia così, però sono troppi ricordi che legano sia me personalmente che la mia famiglia che vive tuttora qui a Bergamo. E quindi veramente una grandissima emozione rivedere anche alcune persone, tra cui Dorino, l'eterno, lo storico magazziniere dell'Atalanta. Luciano, due giorni intensi, full immersion, per imparare da Giampiero Gasperini, anche da Giampiero Gasperini? Assolutamente, l'eterno dell'Atalanta la conosco bene già dai miei tempi appunto, ma anche prima di me tanti prodotti usciti dal settore giovanile. In questo momento sembra tornata veramente ai vecchi tempi, dove tantissimi ragazzi giovani sono venuti fuori grazie al mister e al suo staff, stanno facendo benissimo, io gli auguro appunto di raggiungere il traguardo che meritano.